Sì, è sicuro! Sì, è sicuro! Finalmente! Sì, è sicuro! Venga! Prego! Bene, poiché vi siete iscritti a questo corso, e vi dirò brevemente cosa vi insegneremo. Bisogna innanzitutto tenere presente alcuni principi. Occorrerà sviluppare tanto la forza del vostro corpo quanto quella della vostra mente. Quindi non dovrete mai cercare il combattimento, e soprattutto non dovrete mai vendere i vostri servizi. Molti allievi si sono persi così. Quindi dovrete mantenere alta la purezza delle arti marziali. Vi seguite? Sì, è sicuro! Molto tempo fa ho trasmesso il mio sapere a Chi Shi Hou. Egli imparava con facilità. Era molto dotato per quest'arte. Ma poi la mise incoscientemente al servizio della guerra. Allora lo feci bandire per sempre da questo luogo. Papà, ho già sentito questa storia almeno mille volte. Chi Ying, prendi sempre le sue difese. E Chi Shi Hou è un rinnegato. E non è più il benvenuto per noi. Cosa diavolo sta succedendo? Anteri a San Cristiano. E nonostrei, a Eric E. Chi Hugel? Un'ampagine di chi嗎? Un'ampagine di a using interna koi? Un'ampagine di aствен추.